I segreti dei pronomi e degli aggettivi indefiniti, in latino ovviamente, ma prima li guardiamo in italiano. Gli indefiniti per definizione servono quando non si definisce un termine, una parola, qualcosa. Qualcosa è per esempio un esempio di indefinito. Qualcuno, qualche, ma anche uno, un certo, un tale, oppure nessuno e niente. Allora possiamo anche distinguere tra gli indefiniti positivi, qualcuno, qualche, e gli indefiniti negativi come nessuno o niente. E quindi ci trasferiamo come d'incanto nel mondo latino, nella lingua latina, in cui abbiamo aliquis e aliquid per indicare qualcuno, oppure qualche cosa. Quindi sono due uscite. La prima per il maschile, femminile, aliquid invece è per il neutro. La flessione è presto detta. Consideriamo che questo, quis o quid, ricordano da vicino il quis-quid interrogativo, oppure ricordano anche delle forme, lo vedremo nel corso della flessione, che richiamano il pronome relativo. Quindi la flessione che seguite sul vostro testo sarà aliquis aliquid, aliquius con la c e aliquius rei, perché nei casi indiretti il neutro si appoggia sempre a rei, quindi aliquius, aliquius rei, aliqui, aliqui rei con la c, aliquem aliquid e poi è aliquo per il maschile e aliquare per il neutro, sempre si appoggia a rei. Questa è la flessione del pronome indefinito che vale come qualcuno. Va anche detto che come il pronome esiste anche l'aggettivo che è aliqui, aliqua e aliquod. Naturalmente il gioco è facile perché qui, qua e quod richiamano qui, qua e quod, quindi la flessione è la stessa, è la stessa del relativo intendo. Questo è qualcuno, aliquis aliquid, aliqui aliqua aliquod invece è qualche. Sono indefiniti positivi che si impiegano in frasi di senso positivo e giustamente voi direte. Non ci dirà mica che esistono gli indefiniti positivi che si usano in frasi di senso negativo? Assolutamente sì. Allora ve li presento subito. Sono quisquam e quicquam e poi abbiamo ullus, ulla, ullum. Se avete fatto un po' di tedesco alle medie ricorderete bene la regola secondo cui la doppia negazione afferma. Qualcosa del genere esiste anche in latino, però ve lo spiego facendovi un esempio. Vieni, nec, vidi, quemquam. Il senso della frase è lo stesso del et vidi neminem, soltanto che questa frase qui in latino non esiste. Sono venuto e non ho visto nessuno. Che cosa succede? Succede che in latino la negazione va sempre nella congiunzione. A questo punto non posso dire veni, nec, neminem, vidi perché vorrebbe dire che non ho visto nessuno e per logica ho visto tutti perché due negazioni affermano. Allora per indicare non ho visto nessuno il latino cosa fa? La negazione nella congiunzione nella congiunzione. Devo usare l'indefinito positivo che si usa in frasi di senso negativo. E allora ecco che questa è la forma che troverete in latino. Veni, nec, vidi, quemquam. E non vidi nessuno. L'allievo disperato che dice leggi, ho letto, nec, nec, ullam, scienziam, abeo. L'allievo che dice ho letto e non ho nessuna conoscenza. Le frasi sono inventate sul momento. Ma per intenderci il nessuna non va con nullam perché esiste nullus nulla nullum, ma va con ullam perché la negazione è già qui. E a questo punto devo usare l'aggettivo indefinito di senso positivo che si usa in frasi negative. Esiste anche ovviamente l'indefinito negativo che è nichil, nemo per nessuno e nichil per niente. Quindi per esempio nichil perdo, un latino lo dice, non perdo niente, nichil perdo. Ma se dico vengo e non porto niente, non posso dire et nichil fero, dovrò dire nec quicquam fero. Perché la negazione va nella congiunzione e dopo non posso usare né aliquis, che si usa in frasi di senso positivo, ne posso usare nemo perché ho già una negazione. Alcuni esempi. Vidi neminem. Non ho visto nessuno. Neminem è l'accusativo dell'indefinito negativo che è nemo nullius nulli, neminem nullo. Legisti aliquos libros. Hai letto alcuni libri. Il qualche al plurale diventa alcuni. Alcuni libri è un indefinito positivo usato in frasi di senso positivo. Vieni neculum librum minveni. Venni e non trovai alcun libro o non trovai nessun libro. Ecco, la frase, anche in italiano talvolta, invece di mettere e non trovai nessuno, mettiamo e non trovai alcuno. Ma in italiano abbiamo la scelta, no? Si può dire e non, negazione, trovai nessuno, indefinito negativo. Invece in latino no. Infatti vedi che c'è neculum anziché et nullum. Questa situazione qua non è latino, non è latino classico. Quando c'è una negazione nella frase coordinata, la negazione va nella congiunzione. Sull'uso di aliquis si dice, da che mondo è mondo, che aliquis in certe situazioni perde le ali. Cioè resta soltanto il quis. Quando? Quando abbiamo aliquis impiegato in una proposizione introdotta da un ne, da un si o da un nisi, oppure da un nonne e quindi in genere in espressioni poi che abbiano valore ipotetico. Il quis. Noi troviamo nelle frasi, per esempio, si quem videro, letus ero, se avrò visto qualcuno sarò felice. Questo quem, siccome si trova dopo un si, capisco al volo che è un aliquis che ha perso le ali. Quando aliquis è impiegato dopo le congiunzioni ne, si, nisi, num o nonne, nell'interrogativa diretta e indiretta, si trova impiegato senza ali. Questa è la regola. La spiegazione si conclude con il riferimento ad un altro pronome indefinito che è quidam, che vale come uno, un certo, un tale. È venuto un tale. Allora in questo caso vuol dire che nel discorso non è è venuto uno, è venuto qualcuno, perché è venuto qualcuno in italiano come in latino ali, qui sta a indicare qualcuno che non sia in grado di dire chi sia. Invece se dico è venuto un tale, quidam, vuol dire che non lo nomino, ma so di chi si tratti. Questa è la differenza, è un indefinito che si usa quando non si vuole precisare. È venuto un certo o un certo languorino, non voglio definirlo. È arrivato un tale carico, oppure è arrivato un tale, semplicemente, e tale sta a indicare qualcosa di indefinito e che però non preciso, non intendo precisare, non voglio precisare. Quidam dunque fa quidam, quedam, quidam per il neutro con due d e come sempre si declina, il dam è il suffisso, e si declina la prima parte. Quidam, quiusdam, quidam. Attenzione, quendam, cioè con la n, come nel plurale fa quorundam, con la n, come già idem, fa eundem e non eumdem, che è più difficile da pronunciare. E nel, per l'aggettivo, mi chiederete c'è l'aggettivo per forza, e invece l'aggettivo è quidam, quedam uguale, ma il neutro fa quodam con due d, va bene? E questo è un altro indefinito che viaggia per conto suo e che significa uno, un certo, un tale.